Sabato prossimo alle 14.30 a Piazza della Bocca della Verità abbiamo organizzato questa manifestazione per protestare contro il piano rifiuti della governatrice Polverini che prevede esclusivamente l'insediamento di scariche ed inceneritori in tutto il territorio laziale. Noi siamo assolutamente contrari perché questo va ad incidere direttamente sulla qualità della vita delle persone. Abbiamo delle proposte alternative che prevedono intanto a partire dalla raccolta differenziata porta a porta così come avviene in tutti i paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti così come avviene in tutte le più grandi città europee. È una cosa che si può fare, basta investire. Tra l'altro è previsto dalla legge europea che i rifiuti devono essere raccolti in questo modo almeno al 65%. Inaccettabile che una città come Roma non preveda questo, il sindaco Alemanno parla del 2018 come inizio tant'è che non prevede neanche una lira di stanziamento su questo. È inaccettabile che la governatrice Polverini non accetti un confronto su questo tema. Napoli insegna che è una strada che si può perseguire. Grazie. 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 Grazie.